Fai il bravo, rifai la tua stanza e comportati bene con Sia Rita. Sì. È tutta la notte che inseguiamo quest'orso. Luke, rientra in casa. Fermi, che state facendo? Stai indietro. Vattene! Corri! Ora! È addormentata, la riportiamo a Kate Presley. Oh mio Dio. Non ci credo. Ciao. Ti piace? I cuccioli imparano tutto dalle loro madri. Imparano a cacciare, a sopravvivere sui ghiacci. Per due anni e mezzo sono inseparabili. Ma è un orso, mio Dio. Aspetta, ti posso spiegare? Non sopravvivrebbe un giorno senza la madre. Mio padre una volta mi ha detto che mi avresti aiutato. Salta! Per qualsiasi cosa si fidava di te. Me l'ho deluso. Bene, mio padre mi ha insegnato questo. Così! Riempio ogni singolo minuto con 60 secondi che valga la pena vivere. Tua sarà la terra. E cosa più importante, sarei un uomo figlio mio. Dov'è andato? Sta provando a riportare alla madre un cucciolo di osso polare. Sta andando verso Kate Presley. Il ghiaccio sta iniziando a rompersi. Dov'è? Dov'è Luke? La tempesta ci ha separati. Che gli spiriti ti proteggano per farti tornare a casa sano e salvo. Luke! Sì! Sì! Sì!